...collaboratori da tanti tanti anni, noi siamo una famiglia, una grande famiglia che gira il mondo lei per esempio ha 25 anni, quanti anni sono che sei con me? Quanti? 25 25 circa Vedete, una bella donna così che canta bene e in 25 anni mai niente Niente Ufficialmente non è mai successo niente No, ma scherzo, sai perché? Perché voglio lasciare un po' il dubbio, perché tutti quanti dicono Pupo, lui è sempre, sempre a peccato, no, e tu devi... Ora, cantiamo una storia d'amore che molti penseranno, no, senti, stanno cantando la loro storia Ecco, lasciamoli nel dubbio, noi sappiamo com'è andata, lo sappiamo solo noi Lasciamoli nel dubbio, eh? Va bene? Lei adesso è felicemente sposata? Se io sono stato anche al suo matrimonio, giusto? Sì Come è stato il tuo marito? Bene, bene, molto bene È qui stasera? No Meno male, è meglio così Sentite, una canzone degli anni 80 con la quale vince anche la gondola d'oro Un premio prestigiosamente Eccola qua, una vera storia d'amore Un premio prestigio…